Primo spettacolo Beh, è un romanzo molto particolare rispetto agli altri di Virginia Woolf quindi crea un po' un equivoco, spesso ci si aspetta qualcos'altro, qualcosa di più comunque drammatico invece l'Orlando di Virginia Woolf, per chi l'ha letto lo sa, nasce come una dedica una doratissima amica di Virginia, la pittrice Vita e infatti proprio il personaggio di Orlando è Vita e quindi è come se Virginia dicesse io sto qui nella campagna inglese, attorniata da intellettuali nel mio castello dorato tu vivi e viaggi, vai, quindi puoi essere tutto uomo, donna, un albero, una casa puoi essere qualsiasi cosa e Orlando è qualsiasi cosa effettivamente il romanzo è quasi un fantasy perché il mio personaggio, appunto, Orlando attraverso avventure rocambolesche vive attraverso i secoli diventa varie cose, cambia pelle continuamente ha questa strana malattia o particolarità per cui di fronte alle grosse delusioni che possiamo avere tutti in una vita lui ce l'ha nei secoli si addormenta e si addormenta per cent'anni e in uno di questi risvegli quasi una protezione va in letargo e poi rinasce ogni volta e quindi è pronto di nuovo a riaffrontare a buttarsi nelle cose e in uno di questi risvegli si risveglia addirittura donna quindi io ho una prima parte in cui faccio il maschietto e poi divento una donna, addirittura una madre e anche il messaggio mi piaceva insomma il fatto di portare energia la nostra locandina è un salto verso l'alto e quindi è un salto verso la leggerezza e soprattutto è un personaggio dico sempre uno dei pochi personaggi delle poche eroine femminili che non ha una fine tragica non finisce in manicomia non si suicida non si butta sotto un treno ma comunque è sempre anzi diventa mamma, diventa famosa perché scrive un poema che rende famosa diciamo diventa raggiunge la pienezza proprio perché e questo era anche un messaggio che mi sembra un po' contro tendenza rispetto ai tempi in cui si dice sempre magari non mi innamoro perché poi tanto finisce non mi butto in questa cosa perché tanto finisce quindi è un momento di disillusione secondo me il messaggio di Orlando è proprio quello finché non vivi anche i drammi più forti della tua vita fino in fondo non puoi mai rinascere di nuovo quindi finché vivi tutto a metà non hai sicuramente il dolore più grande ma non hai neanche la gioia più grande non hai sicuramente